Parliamo della Flag Theory. Vediamo che cos'è la Flag Theory e perché nel 2023 ha ancora senso applicare la Flag Theory. Allora, la Flag Theory è una teoria che in italiano, se sapete un po' di inglese, sapete che si traduce come la teoria della bandiera o delle bandiere, in realtà serve meglio dire Flag Theory. Ed è una teoria per la quale diversificare il più possibile, passatemi adesso questa definizione molto molto semplicistica, diversificare la propria vita personale e aziendale il più possibile a livello geografico è una cosa buona e giusta. Ora, iniziamo con la spiegazione e capirete meglio quello che vi sto dicendo. La Flag Theory praticamente vi dice, più diversificate di livello geografico, la vostra cittadinanza, la vostra residenza, i vostri averi, meglio è. Perché? Per una questione di sicurezza. Ora, io so che potrebbe sembrare quasi, non lo so, assurdo, però quando dovesse accadere una guerra, che in realtà tanto assurdo non è, perché siamo comunque nel 2023 e vi ricordo che ci sono in atto almeno due conflitti, tra cui uno è praticamente dietro l'angolo in Europa, in Ucraina, però dicevo, in caso di conflitti internazionali, in caso di problemi tipo il Covid, risulta fondamentale avere i propri asset sia personali che aziendali diversificati a livello geografico. La prima bandiera, la bandiera sarebbe la prima regola, sarebbe per la cittadinanza e la residenza. La prima bandiera vi dice che dovreste avere quanti più cittadinanze e quante più residenze possibili per garantirvi la maggiore e la massima libertà di movimento. Non so se lo sapete, ma voi potete avere fino a o tre o quattro cittadinanze nello stesso momento. Quindi voi, adesso sparo di nemmi a caso, potreste essere tranquillamente italiani, americani, inglesi e spagnoli nello stesso momento e avere quindi quattro passaporti. Se avete quattro passaporti, avete sicuramente più libertà di movimento nel mondo rispetto a uno che ne ha uno, rispetto a uno che ne ha due di passaporti, rispetto a uno comunque che ha meno passaporti del vostro. Chiaramente le cittadinanze devono essere acquisibili perché ci sono dei paesi che vi dicono tu devi avere solo la mia cittadinanza e non puoi avere altre cittadinanze. Quindi vanno chiaramente scelte con accuratezza le cittadinanze che acquisite. Però il concetto fondamentale di questa prima bandiera è proprio questo, ovvero che più cittadinanza avete, più vi garantite libertà di movimento, perché laddove un passaporto italiano non può arrivare, magari ci può arrivare un passaporto giapponese, piuttosto che un passaporto, non lo so, panamense, piuttosto che un passaporto thailandese. Idem perde residenze, più residenze avete, meglio è. A differenza delle cittadinanze che potete avere al massimo tre o quattro cittadinanze contemporaneamente, per quanto riguarda le residenze questo problema non sussiste. Perché? Perché voi potete avere quante residenze volete. Io stesso, in questo momento, mi ritrovo con tre residenze nello stesso momento e tra poco avrò anche una quarta residenza. Ed è perfettamente legale. Quindi voi potete avere quante residenze volete. Per residenze io intendo permessi di soggiorno. Ok? Perché molti questa roba qua non capiscono cosa vuol dire. E dovete avere, o dovreste avere, secondo questa regola, quanti più permessi di soggiorno possibili. In modo tale che se un domani succeda qualcosa nel vostro attuale paese di residenza, possiate andare in altri paesi e non rischiare che all'aeroporto vi dicano no, tu qui non puoi entrare. Se un conto è se voi vi presentate in aeroporto come dei turisti. Un conto è se voi vi presentate all'aeroporto da residenti o meglio ancora da cittadini. Capite bene che è molto molto complessa e molto dura che vi dicono no, tu qui non puoi entrare. Perché in ambe due case voi avete il sacro santo diritto di entrare. Non siete lì per turismo, siete lì perché ci vivete o perché ne siete cittadini. Quindi la prima regola per garantirsi maggiore sicurezza, maggiore libertà nel mondo è avere più cittadinanze e avere più residenze. Le residenze ma anche le cittadinanze si possono anche comprare, ok? In maniera legale, non è una roba black, non è una roba illegale. Le cittadinanze ci sono proprio dei paesi che vi dicono se voi mi date un certo tot di soldi, io ti do in cambio il mio passaporto. Mi viene in mente ad esempio Santa Lucia, mi viene in mente le isole dei Caraibi, mi vengono in mente anche alcuni paesi europei che hanno questi programmi di cittadinanza. Si chiamano proprio Citizenship Program by Investment. Cioè voi investite dei soldi in un certo paese, di un certo montare di soldi e il paese per ringraziarvi vi dà in cambio la cittadinanza oppure vi dà in cambio la residenza in quel posto. Ci sono paesi dove se soddisfate determinati requisiti vi danno la residenza. La residenza può essere temporanea, quindi vi può durare un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni oppure può essere anche permanente. A Panama ad esempio ancora ad oggi, giugno 2023, chi è cittadino italiano, se avete determinati requisiti potete ottenere una residenza permanente a Panama che vuol dire che una volta che ve la danno non ve la tolgono più perché è definitiva. Ci sono paesi, come vi dicevo, se in Europa che anche extra UE che se voi investite 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 euro vi danno in cambio il passaporto e ripeto, in entrambi i casi è una roba perfettamente legale. Se tra l'altro, e qui ne approfitto, siete interessati a capire dove, quando, come, perché prendere una residenza in più la Protect Your Wealth vi può chiaramente aiutare in questo. Grazie. 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 Grazie.